Vi auguro la buona giornata e un buon weekend. Il messaggio di oggi è arrivederci. Presto vedrai che questo cambiamento migliorerà le cose. La tua vita sta cambiando ed è possibile che tu abbia la sensazione che stia sfuggendo al tuo controllo. Eppure in questa fase di cambiamento sei protetto e al sicuro. Nell'arco della vita sperimenterai molti cambiamenti dicendo addio al vecchio e accogliendo il nuovo. Impari che il cambiamento fa parte della vita di ognuno. È possibile che tu ti senta triste nel dire addio e spaventato da ciò che capiterà in futuro. Questa carta ti dice che stanno per arrivare nuovi amici. Non sei da solo comunque, visto che i tuoi vecchi amici e i tuoi familiari ti ameranno sempre e si prenderanno sempre cura di te. Il cambiamento ti aiuta a lasciare andare tutto ciò che per te è ormai superato. Anche se dici addio al passato, conserverai per sempre nel tuo cuore l'amore e le lezioni che hai appreso. Sono tesori che ti accompagneranno per il resto della vita. Dai il benvenuto alle persone nuove, ai posti nuovi e agli eventi che stanno per accadere. Non c'è niente da temere per il tuo futuro. Sarà felice, luminoso e ci sarà di che divertirsi. Questo è il messaggio per augurarvi la buona giornata.